ecco ci vediamo in una versione un po più estiva degli incontri in streaming ospite di oggi di questo spazio di libri d'asporto caterina soffici autrice di quello che possiedi con feltrinelli cerco di far vedere la copertina eccola qua a favore di luce è un romanzo da leggere in un fiato una lettura che sicuramente può essere la lettura giusta per quest'estate ma io lo spero veramente lo spero moltissimo e soprattutto mi piace tantissimo questa iniziativa dei libri d'asporto io sono una grande sostenitrice di librerie e di libri d'asporto con tutto quello che viene del messo connesso pizze quello che volete però l'importante che non vi fate non prendete libri dai librai comprate dai librai e prendete fidatevi delle persone non fidatevi degli algoritmi io lo dico sempre lo ripeto nella mia battaglia quindi viva i libri d'asporto e speriamo che questo libro sia un libro da estate anzi sicuramente è un libro da estate una storia ambientata come già ci dice lo sfondo estivo sì ma che ricorda molti colori della toscana quello che abbiamo dietro le nostre spalle diciamo così un libro in effetti è ambientato a firenze che è la tua città comunque o comunque l'è stata per un lungo periodo di tempo lo è stata per un lungo periodo ci ritorno molto spesso perché comunque io ho mia madre che ancora vive qua io sono andata via in verità quando avevo 20 anni 22 nei miei 20 anni sono andata a milano roma poi milano adesso vivo a londra è un posto in altri posti ho passato la pandemia in un piccolo villaggio sulle alpi insomma è una vita nomade diciamo così e forse per questo voluto scrivere un libro che tornasse un po alle mie origini quindi mi è piaciuto molto scrivere di firenze che comunque una città dove sono nata e conosco che conosco bene e questo libro è ambientato in una collina su una villa in cima a una collina a firenze e una madre una figlia un segreto non un segreto ovviamente non è svelato perché sennò non sarebbe un segreto diciamo qualcosa che torna dal passato di questa famiglia e che la madre non vol ha tenuto per sé e che vicina alla fine della sua vita questa donna sparisce e questa sparizione ha a che fare con quello che è successo prima insomma e poi non è un giallo non è un giallo cioè sparisce ma non è che però un pochino diciamo c'è da scoprire un po di suspense un po di attesa un po di attesa ed è per questo che dico che si inizia e non si molla fino alla fine perché è chiaro che clotilde la protagonista non particolarmente simpatica lo diciamo subito anzi ti dà un pochetto anche no un po di prulito quando la senti parlare quando te la immagini no perché per alcuni versi clotilde però qualcosa che l'ha portata ad essere così l'ha portata anche a stabilire determinati rapporti in particolare uno quello con la figlia olivia altra protagonista coprotagonista diciamo così di questa storia e certamente c'è qualcosa che tu vuoi conoscere tu lettrice intendo dire cioè tu ci hai accompagnato in questa storia e non ci fai prendere fiato no dobbiamo arrivare alla fine entro un brevissimo termine l'altro giorno ricevuto una mail da una persona ha detto non mi ha fatto dormire e detto mamma mia perché era una storia così in effetti ci sono delle parti della storia sono abbastanza anche non hai fatto dormire si è dovuto sono fatto le quattro di notte per finire per finire il libro e quando quando ti scrivono così persone che non conosci perché ti scrivono su facebook scrivono nei messaggi no ormai ci sono 3 mila canali è stato sempre controlla tutto e poi io mi piace sempre rispondere lettori io come lettori grande rispetto e grande grande stima e sono creati anche dei bei rapporti con delle persone che hanno letto gli altri libri miei eccetera per cui ma tornando a clotilde si è un clotilde è una persona piuttosto antipatica all'inizio del del libro olivia sembra un po un po scemetta all'inizio del libro è una donna di mezza età che fa le diete che va a correre che non è contenta della sua vita si capisce benissimo c'è un rapporto un po problematico anche col marito insomma è un cliché chiaro di una donna che arriva intorno ai 45 50 anni e si guarda intorno e dice ma che cosa ho fatto fino adesso e in più ci si mette di mezzo questa madre che gli lascia una lettera e che poi questa donna muore e questo si può dire insomma la madre alla fine del libro muore insomma però in questa lettera ci sono delle cose lì si capisce lì c'è il dubbio di cosa deve fare di cosa deve fare olivia e questo è anche un po il nocciolo del libro non di capire che se se lei apre questa lettera o se non la apre cosa ne farà è giusto sapere giusto conoscere il proprio passato o meglio non saperlo quanto ci si può far condizionare da quello che c'è stato e quanto invece ognuno può prendere la propria mano in la propria vita in mano no e quindi diciamo il rapporto tra queste due donne il dialogo tra queste due donne e ruota proprio intorno a questi a questi temi allora un'altra protagonista importante ovviamente è l'ambiente dove dove viene svolta la maggior parte della storia che questa villa che io mi immagino appunto con un viale ben segnato dai cipressi che sono comunque un albero a cui tu sei abbastanza legata l'ho trovato anche nel precedente romanzo no come riferimento il cipresso e che comunque fa molto toscano proprio l'idea associato ai paesaggi che che penso abbiano segnato comunque la tua crescita certo e questa villa sicuramente se tu pensi a toscana ti viene in mente subito i cipressi pini gli olivi che sono questi poi quelle che noi chiamiamo a firenze giaggioli che poi sono gli iris no quei fiori d'estate bellissimi insomma sono tante tante cose che ritornano quei profumi dell'estate quei profumi del caldo quei profumi lecicale no che è proprio il tipico mi sembra di vedere nello sfondo su cui passiamo parlando sento il rumore sento l'odore io di quell'erba sento i rumori la canicola dell'estate no questa cosa che poi invoglia molto almeno a me invoglia anche molto a leggere mi metto su una bella poltrona anche sul letto io spesso leggo sdraiata sul letto come addormento però spero che il mio libro non mi faccia addormentare spero di no la villa in effetti come dici è un bel è un bel personaggio perché anche la villa conosce tutto secondo me e c'ha dei segreti lei mantiene e la villa è il simbolo della immutabilità di questa grande bellezza grande bellezza che uccide luoghi quindi anche firenze e chi li abita è quello che io scrivo no e sono convintissima di questo troppa bellezza non è mai una cosa buona né per le persone né per i luoghi perché diventa un po una gabbia una gabbia dorata tante volte una gabbia un le persone che sono troppo belle sono ostaggio della propria bellezza persone che vivono in posti troppo belli rimangono ostaggio di questi posti e questo qui secondo me è un po l'emblema di clotilde di firenze e in grandissimo proprio a larghissima parte anche dell'italia quindi diciamo i tre punti fondamentali che ritroviamo anche rispetto al titolo no quello che possiedi quindi il possesso la bellezza e c'è un altro elemento che in qualche maniera ruota intorno a questo libro secondo te ma secondo me c'è il senso di colpa e il senso di della libertà cioè quanto veramente uno è il libro di poter scegliere la propria vita quanto uno ha il coraggio di prendere in mano la propria vita e come tu dicevi il possesso che è anche una parola che abbiamo usato nel 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 titolo quello che possiedi perché molte molte volte le persone non se ne rendono conto però quello che possiedono alla fine le possiede come diceva il famoso come la famosa citazione di fight club perché alla fine le cose sono una cosa sono molto chi è attaccato troppo alle cose vive a metà della vita perché le cose richiedono attenzione richiedono richiedono anche affetto e richiedono emotività quindi se tu c'è troppo attaccamento per quello che in questo caso è una villa oppure quello che è stato il tuo passato il passato della tua famiglia questa è una famiglia aristocratica qui si parla anche di di alta società che è molto vacua che è molto frivola no sono delle persone che sono molto attaccate a quello che possiedono e perdono di vista quello che sono e quindi quello che possiedi è meglio non possederlo certe volte allora non so se vi abbiamo incuriosito certo è che secondo me dovreste andare nella libreria più prossima voi cercare tra gli scaffali quello che possiedi feltrinelli caterina soffici è un consiglio di lettura appassionato o meglio appassionato o forse spassionato da una parte di una libraia appassionata ringraziamo caterina per il tempo che ci ha dedicato grazie mille a voi ti iscriveremo ti iscriveremo grazie mille a voi grazie